Oddio, questi sono due Smurf, sicuro. Oh, magari non la botta, questi. Eh, Rexana, pure Belbeth! Credo del Void, apostrofe. Questa, però, non la botta del Void, vero? Beh, non mi ha attaccato neanche qua, non so per quale motivo. No, se lo piavo, forse... Non lo piavo comunque. Eh, perciò ti sia, scuola. Gigi. Gigi. Anj, da poi bocano, si riesce, no. F***a questo c'ho pegnato No, direi che dovrei mangiare nella scena Ok, abbiamo messo bene, vantaggio di extra, vantaggio di gold Facciamo lentamente Così non potevo giocarla, ovviamente Sto portando tanto a 2d trivots contro quel team Forse è la cosa migliore Dove cercare di creare il game Dove diventare un carry io, quindi mi sa che trivots è la scelta migliore Madonna, madonna, bot, come si fa? Tutti tiltati già bot Sono già tutti tiltati questi, raga Possiamo poter vedere la questo Sì, sì. I don't f**king know. Bravi, 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 bravi. Eh sì, abbiamo giocato molto bene qua. Purtroppo la guerra mi è messa un po' malino. Però... Could do anything better. Corrego ancora. Which is boosted. This switch is boosted. Which is boosted, but you are 0-2. And staying that instead of roaming top. Which is the win condition. So, come top. And that's me to get your feet. Oh, io non cresco la gente tipo Lulu. Non c'ho Ward, non voglio andare in. Non c'ho Ward, non voglio andare in. No c'ho lo. Ma di amore traxt? Ma... Graze coming top. Boh Questa Lulu ha un problema mentale Sicuramente Lulu Come top Non ce la fa a capirlo Non ce riesce Sono pure in battle Potremmo pure in battle Mamo Insieme In tre Ho misclicato Non ho portato la Q Ma no Qui dobbiamo andare 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 Oh che dobbiamo andare No È ingiocabile È ingiocabile Sto error Cioè nessuno sa Quello che deve fa Non capisco Sto una questa È ingiocabile E l'errore E l'errore lo prendono loro Ma io Zag Ancora prima dei gol Dei fa Mendo 10 Cioè Sto prendono noi Splair Non loro Non loro Non loro Questo loro E l'errore lo prendono loro E l'errore lo prendono loro Ma pure Zag È mezzo ritardato Ragazzi Sto che non lo vinciamo Platt 2 Non sapevo muoversi Pure Lulu Cioè l'obiettivo Era andare topside Si dà Il rosso Prende l'herald Killare Nerton Su dive Cioè Questo è l'obiettivo E non hanno fatto Noi di tutto Perché non si è giocava bene Ma a me lo segui Quello che ticono gli altri Cioè Visto che c'è sopra Nakami top Che sta vincendo Contro Renetto Un 1v1 Io direi che forse È il caso Dei seguirli Ti direi Don't play Drake Zag Oh va il drago Lo prendono loro Non prendiamo niente Madonna Non ce la faccio proprio È logica Cioè è logica Non è meccanica Skill È logica Non è木 Quindi Wow Il processo è spero La morte È vero Il sunkil Quora Sì Sì Sì, lì è l'assimile. Questa è una madre di S.A.S. ha fatto tutti i sti rommi, oh? Porca miseria, troia. Ovviamente non è stato Ward. Che fa quello là? Questa è la squadra, Gianni. Buon job, Zack. Grazie a tutti. Ragazzo stupido. Mi chi va a poter correre. Quanto muoviamo i grazer, ragazzo, probabilmente. Questa staffana cosa non dovrebbe mai fare. Serra Andrea con il quinto mese. HG, 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 HG. Sì, Serra Andrea, grazie per il suo fatto. Eri benvenuto nelle canne di canne. Welcome back. Grazie mille, brodero. Questo che mi era vinto. Purtroppo c'è proprio gente che non sa giocare. Ma neanche il minimo. Dobbiamo far mai basta e scalare. L'unico modo che dobbiamo che vince è scalare. Dobbiamo buildare un site, la tabby, the dance. L'unico modo che dobbiamo che vince. L'unico modo che dobbiamo che vince. Non lo vinciamo sto game, ma ci sono proprio stupidi meccanicamente. Cioè Zack è proprio... è bad meccanicamente l'intelligenza, capito? È un player inutile. Twitch idem. Lulu idem. Cioè sono tutti i player stupidi che non sanno giocare. Perché non è che dici sono stupidi ma meno c'hanno le meccaniche. Sono intelligenti ma non c'hanno le meccaniche. Sono sia stupidi e non c'hanno manco le meccaniche. Quindi proprio non danno niente al team. Pure Lulu scrive lo booster. Cioè Lulu pure è un altro stupido. C'è un coglione che sa giocare. La prossima è un'altra cosa. Credo che builderò prima delle tabby la Tiamat Perchè mi darà un po' più di push potential, mi darà forma prima Herald up, giurano per le Herald, trovo 2 minuti e trenta però, devi tirare nel top Poi pure i guys credo sia smurf comunque 3 gank top, quasi il rank to next, lo extend ma, da qua via Metteranno mid into barrel, mid into drake Top Drogo up tra poco Non ho fatto re di là Ma ha deciso tutto grisa Un attacco doppia come ha distrutto Tutto ce l'ha meglio qua I tararei già metterve salvato, usare le R pure non era male Vabbè, gg, finisco il primo game è meglio Già si, ho fatto due Può sembrare un fenomeno, guarda là Tانi Tampi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu gridi, tu gridi, my bad. Ho gridato troppo. Buon sacco. Buono. Buono. Buono in culo, bravi ragazzi. Bravi ragazzi. Dov'è un po' di runo sida. Dov'è un po' di runo sida. Per il bad fattore mid ragazzi, è troppo importante da buttare giù la team 1 mid. Grace deve regallare, Raga nel top, Kai se è morta. Anche Rana che è top. Però prende gli 2 hit più 2 hit che posso, c'è tanto... Via via va bene, 2 per 1. Deve sempre gridare la gente. Oddio. La pia me sa. Va bene, va bene. Corchi pure c'è un bel po' di danni, porca miseria. Qui c'è bello fiddato. Questo è buono. Vedi che era messo bene, io devo fare livelli. C'è bello fiddato. Io qui ci fa quei danni solo da Grand King. Come si fa? Grace Wolf. Prendo pure io il Baron, Mary Huge. Very Huge. Non ho anche il Gromp. Non so se invece Dead Dance potessi fare... Favre possa fare tipo... Sterak magari, perché in teoria mi serviva pure Force of Neth. Se facessi Dead Dance Force mi sono un po' di HP, me so. T.P. brother. Non fai diamo finché il cochi c'è il po' di... C'è un po' di... Eh da madonna di Dio! Manco l'hanno pingato che arrivava corto. Mortacci vostri. Qua dovevano subito push a mida, sì. No, l'aveva cacciandato almeno. Non è worth per loro sta cosa. Non è per nulla worth. Cioè... Oddio,krchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch che l'ho va VAMONOS! The Dance pronta? Eeeh dopo The Dance... Devo giocare un po' di MR! Mi ha fatto riserak, però! AD! Eeeh! Tu sei qua da solo, bro? Mueve di Minion! Bravo daca! A più ci dove cazzo è andato! Oddio mi sclicca! A little back twitch! Mueve di Mueve di Mueve di Mueve di Mueve! Va bene, va bene! Ho rilassi da te, VEGAR! Lagi, cazzo! Seracchina, vai! Vediamo stata la frustacata! Trovo VEGAR, bel tippi dietro! Vado di Sterak, vado di Sterak! Mi piace molto di più! Altro AD! Altro Danno! Altro Sustain! E dopo la Sterak andiamo di Force of Nature, probabilmente! Si tratta più moment speed, ha forte contro Corky! Non è male! No, c'è VEGAR che sta giocando molto! Allora, io sto giocando bene, ma senza VEGAR sto che non lo carriamo! Come VEGAR non lo avrebbe carriato senza di me! Oh, è roscio! Grazie, bro! Quindi! Poi c'è per Twitch qualche danno comunque lo mette! Baron Sun! Che fa Kaisa? Guardato! Guardato! E addirittura dice... Comunque, ah! Stanno riusciti i capelli come Cristo comanda! Tocca a fargli prendere la forma corretta! Guarda non te lo fa cazzate perché non ci sto io! Questo è il caso che io gruppo con loro! Non lo so, ma vediamo! Mi deprio! Niente! Non c'ha smite Zack! Come si fa? Tutti qua sono venuti veramente! Non c'è! Guarda che c'è il package ancora! Comunque, ultimamente senza motivo! Ma che fanno? Back, 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 back! Tutto a caso! Un minuto da Kila a meno che viene apparato il Nashor! Per quale motivo? Dovrebbero riuscire a difendere in teoria! Qua non c'è bisogno di fredato, non solo difendo aspetto a me! Vede tutto un'altra cosa! Che dice Pinia! Lo dice Pinia! Ah, io non vorrei fare questo! E sostiene questo, merda. Contro blu. Ho fatto in solo, io vado a push a Kwan, ero un po' di coglione. Dovrei prendere Staggare, non sai. Ma come si fa, oh? Ma che fanno questi? Dio mio. Io muovo tempo alla stessa maniera, eh? Comunque. Aspetta, mi spieghi perché l'Allo Ero prende il Boros e dovece perdere uno o due torri, funziona il contrario, cazzo. In che senso? Che intendi? Ah, il Baron è uno di quegli obiettivi che puoi permetterti di perdere qualcosa per prenderlo. Quindi se tu perdi due torri per prendere il Nashor, va bene. E poi sfrutti il Nashor. Aia. Se tu ovviamente non sfrutti il Nashor, ecco, è un po' tutto un cazzo. No, attraverso. Acqua. Arrivo, arrivo. Allora. no 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 tutto sotto di me ulti di casa, ulti raga tutto sotto di me fatemi sostenermi, fatemi sostenermi, fatemi sostenermi mi è stato affaitato, mi è stato affaitato, non so come si fa questo è poco chiaro, abbiamo preso due real nexus tutto sotto di me hanno usato questi io potrei poter poter ho a proprio un metodo non che non che non 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 12G, brother! Diciamo che, comunque, se tu prendi una risulta come il Nashor e la sfrutti male anche se è difficile cioè, il Baron è molto il Baron buff è molto brain dead cioè, nel senso, è difficile sfruttare male il Nashor questo game è un po' difficile il Baron 1 eh, porco di... come si fa a Daniele Torri? Daniele non male lei hagane questo game era un blind pick? come... guardate, che era un...